Per aggirare le indagini e controlli e per non dare punti di riferimento per gli appostamenti avevano escogitato una modalità di spaccio dinamica, accordi presi al telefono con luoghi per gli appuntamenti decisi al momento e che cambiavano di volta in volta. Ma i carabinieri sono riusciti ugualmente a individuare i componenti della banda e a ricostruire il modus operandi scoprendo anche la piazza di spaccio stabile all'interno di un famoso bar di Marano. Al termine delle indagini sono arrivate le misure cautelari emesse dal GIP di Napoli. Quattro persone in carcere, altre due agli arresti domiciliari con le accuse di associazione finalizzata al traffico illecito, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'indagine ha permesso di ricostruire un'organizzazione criminale deputata allo spaccio di droga nei territori di Napoli Nord e in particolare a Villaricca, Giuliano e Marano. Il business della droga veniva realizzato seguendo prevalentemente due modus operandi. Il primo fondato su una vendita statica della droga, il secondo invece basato su un canale dinamico. La vendita statica veniva nelle classiche piazze di spaccio nei pressi delle abitazioni degli indagati oppure fino anche all'interno di un noto bar del centro di Marano. Lo spaccio avveniva anche grazie all'aiuto di alcuni fiancheggiatori che avevano il compito di avvisare i pusher in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. La vendita dinamica invece avveniva tramite appuntamenti concordati a mezzo telefono tra spacciatori acquirenti, rendendo difficile e imprevedibile l'individuazione del luogo d'incontro da parte delle forze dell'ordine. In manette sono finiti Marcello Tipaldi, 26 anni, Gennaro Corrado, 38, Michele Marrandino, 33 anni, Marco Marchesano, 24enne, Carmine Cerqua, 20 anni e Giovanni Montagna, 25 anni. Il gruppo vendeva hashish, marijuana e cocaina, principalmente a Marano di Napoli, paese della provincia del capoluogo campano e nelle aree limitrofe.